Eravamo dei fatti, uno contro l'altro, senza mai volerci bene. Ma lo Spirito Santo ci ha formati e trasmati a immagine di Gesù. Noi pietre vive per costruire un edificio santo, noi graditi a Dio, lo saremo stringendoci ancora più forti a Gesù. Lui pietra viva, pietra angolare, scelta e preziosa per Dio. Unite a lui, siamo pietre che sempre sorridono, pietre che insieme camminano. Pietre che si danno la mano, eravamo viviti. Noi pietre spigolose vuole per costruire barriere. Ma l'amore di Dio ha distrusso il peccato e ci ha dato la libertà. Noi pietre vive per costruire un edificio santo, noi graditi a Dio, lo saremo stringendoci ancora più forte a Gesù. Lui pietra viva, pietra angolare, scelta e preziosa per Dio. Unite a lui, siamo pietre che sempre sorridono, pietre che insieme camminano, pietre che si danno la mano. Francesco di Assisi, obbedeva al Signore che chiedeva a lui, prepara la chiesa. Ma non cerca sassi, perché invece le pietre viventi di Dio siamo noi. Lui pietre vive per costruire un edificio santo. Noi eravamo dei tanti, uno contro l'altro senza mai volerci bene. Ma lo Spirito Santo ci ha formati e trasmati a immagine di Gesù. Noi pietre vive per costruire un edificio santo, noi graditi a Dio, lo saremo stringendoci ancora più forte a Gesù. Lui pietra viva, pietra angolare, scelta e preziosa per Dio. Unite a lui, siamo pietre che sempre sorridono, pietre che insieme camminano, pietre che si danno la mano. Eravamo viventi, pietre spigolose, buone per costruire barriere. Ma l'amore di Dio ha distrutto il peccato e ci ha dato la libertà. Noi pietre vive per costruire un edificio santo, noi graditi a Dio, lo saremo stringendoci ancora più forte a Gesù. Lui pietra viva, pietra angolare, scelta e preziosa per Dio. Unite a lui, siamo pietre che sempre sorridono, pietre che insieme camminano, pietre che si danno la mano. Francesco di Assisi, obbedeva al Signore che chiedeva a lui, prepara la chiesa. Ma non cerca sassi, perché invece le pietre viventi di Dio siamo noi. Noi pietre vive per costruire un edificio santo, noi graditi a Dio, lo saremo stringendoci ancora più forte a Gesù. Lui pietra viva, pietra angolare, scelta e preziosa per Dio. Unite a lui, siamo pietre che sempre sorridono.